Ciao ragazzi, sono Alex e sono tornato con questo nuovo video e ci porto il 14esimo episodio di Amatera Grigio di Lory Sono qua su tutti contro tutti E sta diventando impossibile trovare una partita che sia divertente da vedere Non per farci una game, ma che sia divertente Perché la scorsa partita di tutti contro tutti che ho fatto è durata 10 minuti Sempre su 3, ma non ho mai giocato in una partita così lunga Vabbè, comunque, mi avete chiesto di far dominio ma adesso non voglio andare su dominio Voglio un attimo giocare qui C'è Tremor che mi piace abbastanza come mappa e voglio far vedere questo spot Quello lì dove stavo Se le persone si muovono e non stanno ferme come al solito fare tutti contro tutti Si possono fare veramente delle belle cose Perché iniziano a spawnarti tutti attorno Adesso questo qui usa i pacchetti esplosivi, quell'altro sta fermo Come vedete nella feed tutti si stanno... Oh, una kill addirittura Lì è l'immobile, adesso mi dovrebbe spawnare qua a destra E infatti Sì, ok Adesso ci dovrebbe spawnare qua dietro E ce lo fregano Ah no, pensavo ce l'avessero ucciso Va bene Adesso di nuovo qua Questo è lo spot Solo che ci vorrebbe la collaborazione dei nemici Che si ammazzassero un po' di più Oddio, eh L'unica pecca di questo spot è che se ci arrivo là sopra non lo sentiamo Anche se io ho percezione ambientale non si sente Non so perché Ho mai sentito, sono morto tantissime volte in serie Velocissime su questa mappa Perché non sentivo quello lì che ci sentiva Comunque Non dobbiamo fare altro che fare a destra e a sinistra E aspettare che le persone ci vengano addosso Ah Ok Però lì è lì fermo Dietro la macchina Ok, questo qui è entrato Oddio, che cosa l'ha tirato? Forse c'è rispawnato uno dietro? Oddio, io Quello là stavo perdendo un nemico O un pezzo e una macchina Va bene, l'abbiamo preso Riguardiamo qua dietro Non sento nessuno in questa lobby C'hanno tutti silenzio di tomba Ok, detto fatto Ce n'abbiamo uno dietro e uno davanti E stiamo pure stunnati Ok Questo qua lo prendiamo E andiamo a prendere pure questo qua sotto Che voleva risalire Speriamo non ci abbia sentito Invece si Ok, l'abbiamo preso per fortuna Guardiamo qua a sinistra Ne sento uno E' andato in mid Perfetto, lo prendiamo Allora Ora dovrebbe essere risponato là Ma secondo me Ci sta aspettando Sì, eccolo lì La challengeiamo, la rischiamo Chi se ne è? Ma non lo vedo Dov'è? Ce n'è uno pure lì a si Ha preso Allora ragazzi Tutti i controllati Si gioca controllando le zone Ma non stanno fermi A mirare in un angolo Controllare le zone vuol dire Questa qua è una zona Io Mi controllo i suoi spawn Non stare qua in cima A mirare che uno Non mi salga dalle scale così Perché è così Che poi ha funzionato In questo In questo istante Perché lo sentivo Comunque Se si fa così La partita Dura i millenni Perché Non si ammazzano le persone Non spawnano E quindi Tutti stanno fermi Ad aspettare che uno si muove E quel poraccio che si muove Sono sempre solo io E quindi Le partite diventano Una bastita schifose Oddio Ci hanno tirato un po' Che desplodio Comunque Mi sto un po' Perdendo in chiacchiere Cerchiamo di controllare Questa zona Che ha tantissimi spawn È un po' Quella che si usa Sul dominio Ci stanno spawnando Tutti attorno Per fortuna Questo qua sta salendo Adesso l'ho ucciso Ci dovrebbe spawnare Uno sotto Vediamo se è vero Sì Però ci ha preso Ci avrà sentito Anche se Ho silenzio di tomba Vediamo se è ancora qui Comunque come vedete M'ho ucciso Li sono risponato qua E lo spawni tutti contro tutti Ha fatto così Ok lo prendiamo Adesso forse Si spona qua a destra No ci ha spawnato dietro Perfetto Vediamo un po' Questa volta Sono spawnati lontani Il drop è così Uno dietro Ci stiamo facendo Sempre uccidere A quel pod gop Che nome È un pacchetto esplosivo E uno sta salendo Qua in cima Forse è già salito Quanta roba Mi sta esplodendo Tosto Ce n'abbiamo uno sotto Questo l'ho cercato Il coltello Facevo meglio Spararli forse Però l'abbiamo preso Uno è pure qua a destra No Ho sentito male Cioè guardate Il secondo Sta a 7 kg E sto a 24 Perché sono tutti fermi In 5 minuti 24 kill Sono abbastanza Sono tante Cioè sono poche Scusate Perché Non si ammazzano Io me li devo andare a cercare Non mi spawn Non faccio meno kill Vabbè Cambiamo un attimo zona Torniamo in quella di prima Dove ce n'è uno O qua a sinistra O sopra Ce n'è uno sopra Però anche dietro Proviamo a tornarci Sento un sacco di passi Contro di me Questo qua sta girando Col piedi vuoro Il secondo sta ancora 8 kg Allora sta a fa 6-0 Ma è questo sicuro Stessa situazione Che vi ho Simulato prima Stare lì fermi A mirare le scale Bellissimo Come vedete Funziona molto Perché io sono a 26 kg E a 8 E Andiamocela a cercare Gli ultimi 4 Non c'è Molto da dire In questo momento Perché Stanno tutti fermi Andiamo a prendere Di nuovo questo qui Che sarà in cima All'esco Ma stavolta Esco in prefire Questo qua C'ha pure il cane E' stata Vedere No Però ce n'abbiamo Uno sotto Oddio C'ha la torretta Uno è qua Facendo questo giro Sta salendo le scale Lo prendiamo No Saliamo dalle scale Facciamo un po' di prefire Che si sarà fermato qui Perfetto Era lo stesso di prima Guardate Si stava rimettendo lì Ok Ci manca una kill Che la prendiamo subito Speriamo di non farci ammazzare Da quella torretta Oddio Guardatela No Lo vedevo Ma avevo paura Che mi spalasse la torretta Invece era già distrutta E prendiamo l'ultimo kill Niente 38 Spero che come bisogno vi sia piaciuto Non c'era moltissimo A dire La prossima la faremo su domina Come mi avete chiesto Niente ragazzi Ho finito Ciao a tutti Ciao a tutti